amici di ardolfone.com bentornati in questo nuovo video qui sotto la nostra videocamera abbiamo HTC Radar ci appresteremo ad effettuare l'unboxing e la video recensione iniziamo subito con l'aprire la scatola e come possiamo vedere in bella vista troviamo subito lo smartphone che come possiamo vedere è interamente in alluminio con le parti in alto e in basso in gomma per nascondere le antenne mettiamo da parte il terminale e vediamo un po' la confezione che HTC ci fornisce troviamo un cavo USB micro USB troviamo un caricabatterie da parete USB con il brand HTC troviamo delle cuffie con dei gommini per metterli nelle cuffie per ricambiarli con jack da 3,5 pollici ed abbiamo anche il tasto per regolare o meno il volume per rispondere alla chiamata andiamo ora ad esaminare le caratteristiche fisiche di questo HTC Radar dunque a sinistra possiamo vedere l'entrata per il cavo micro USB in alto troviamo il jack da 3,5 mm e il tasto per l'accensione e lo spegnimento del device a destra troviamo il bilanciere del volume seguito poi dal tasto per effettuare una fotografia o semplicemente avviare l'applicazione fotocamera in maniera veloce posteriormente troviamo una fotocamera da 5 megapixel con il flash LED e poi troviamo la griglia per la speaker troviamo poi in basso il brand HTC e Windows Phone perché ricordiamo questo HTC Radar monta Windows Phone 7.5 Mango in basso troviamo lo sportellino che ci consentirà di inserire una SIM nel formato standard e nient'altro vi ricordo che tutti i telefoni Windows Phone non hanno la possibilità di essere aumentati di storage con micro SD quindi soltanto con la memoria interna possiamo vedere il display da 3,8 pollici con risoluzione 800x480 abbiamo una fotocamera frontale con risoluzione QGA poi troviamo i tre tasti soft touch troviamo il tasto back, il tasto home e il tasto di ricerca adesso lo andiamo anche ad accendere troviamo poi in alto la griglia per le chiamate seguita poi dal LED di notifica come potete appunto vedere adesso vi parlo un po' del display di questo HTC Radar devo dire che è un'unità davvero molto buona i colori non sono sparati sono naturali ecco qui che si è acceso scusate, adesso ecco qui possiamo vedere la fluidità di Windows Phone è davvero buona ma su tutti i device che montano questo sistema operativo non abbiamo particolari problemi hardware di questo HTC Radar CPU single core da 1 GHz 512 MB di memoria RAM e 512 di ROM abbiamo 4 GB di memoria di storage come ho detto prima non è possibile espanderli adesso andiamo ad effettuare un po' il testo telefonico abbiamo apriamo il dealer chiamiamo il 155 effettuiamo una chiamata viva voce alziamo al massimo come possiamo vedere la chiamata risulta abbastanza pulita e anche l'audio in chiamata esterna è abbastanza buono come possiamo vedere il dealer è davvero molto elegante abbiamo dei tasti molto grandi per effettuare la chiamata e la ricerca veloce funziona abbastanza bene Windows Phone integrazione con social network abbiamo integrato il nostro device con il nostro profilo di Facebook ed è possibile consultare tutte le novità che abbiamo su Facebook aggiornare i nostri contatti con la foto che hanno appunto su Facebook e avere tutti i contatti aggiunti sul nostro account multitasking direi abbastanza buono funziona bene abbiamo la possibilità di aprire il calendario che abbiamo già aperto precedentemente e consultare come vi ho detto prima grazie all'integrazione consultare i compleanni o gli eventi che abbiamo sui social network applicazione messaggi lo andiamo ad aprire faccio vedere un po' la tastiera classica Windows Phone abbiamo il correttore automatico che funziona abbastanza bene e la scrittura risulta scorrevole usciamo dall'applicazione messaggi adesso andiamo a fare una prova nel browser andiamo sul nostro blog di hardware phone ecco qua come molti di voi sapranno la navigazione con Windows Phone è buona non abbiamo particolari problemi il pinch to zoom è davvero fluido il pan possiamo vedere è ottimo come molti di voi sapranno Windows Phone non supporta il flash player ma come possiamo vedere il blog viene caricato molto bene vediamo un po' ad aprire un articolo si vi faccio vedere anche la velocità di caricamento eccolo qui adesso vi faccio vedere un po' il doppio tap per vedere l'adattamento e come possiamo vedere l'adattamento è istantaneo ed è davvero fluido apriamo un po' le impostazioni di questo Windows Phone sono le classiche abbiamo la possibilità di regolare le impostazioni di sistema le impostazioni delle applicazioni e abbiamo la possibilità anche di regolare il tema che può essere scuro o chiaro e i colori come i classici Windows Phone una cosa che abbiamo trovato abbastanza buona come funzione è il risparmio batteria che quando attivato ci consentirà di arrivare tranquillamente a 2-3 ore anche avendo una batteria del 10% autonomia vi faccio vedere noi abbiamo fatto un giorno e 18 ore con questo HTC Radar e davvero la batteria è duratura siamo al 20% come potete vedere integrazione con il client email il client email è davvero buono abbiamo un push che funziona bene email pinch to zoom molto fluido quindi nient'altro da aggiungere vi faccio vedere adesso un po' di fotografie scattate con questo HTC Radar apriamo il rullino vi faccio vedere una foto eccola qui effettuato a questo Samsung OmniW le macro vengono abbastanza bene i colori come vi ho detto prima non sono sparati ma non tendono più al naturale ecco un'altra foto questa abbiamo scattata così guardate i colori sono davvero buoni e anche le fotografie si tratta sempre di una fotocamera da 5 megapixel per quanto riguarda i video i video vengono girati a 720p ed è possibile anche regolare la qualità dei video quindi possiamo impostare anche la risoluzione per diminuire lo spazio ecco un'altra fotografia vi faccio vedere come sono i bianchi questo è il nostro iPhone 5 guardate la preview se non l'avete ancora vista e diciamo comparto fotografico assolutamente promosso per quanto riguarda il comparto musica abbiamo Zune come tutti i Windows Phone che ci consente di di inserire le le canzoni scusate i brani direttamente dal computer adesso riproduciamo una canzone che abbiamo sincronizzato come possiamo vedere l'audio è abbastanza pulito anche se è un po' basso l'abbiamo provato con le cuffie che ci vengono fornite in confezione e non ci sono particolari problemi marketplace assolutamente positivo le applicazioni stanno stanno arrivando adesso sono poche ma ogni giorno divano applicazioni come possiamo vedere una volta cliccato un'applicazione possiamo installarlo o condividerla sui social network whatsapp che è arrivato anche su su windows phone effettuando gli slide possiamo vedere le anteprime le recensioni eccetera quindi comparto assolutamente promosso poi htc ci fornisce le proprie note mediante quale questa applicazione possiamo inserire adesso vi faccio vedere delle note cliccando su più e con questa animazione davvero carina abbiamo la possibilità di inserire una nota e salvarla successivamente adesso usciamo vi apro di nuovo il multitasking per farvi vedere come funziona il passaggio da un'applicazione all'altra ecco qui come possiamo vedere non abbiamo problemi e faccio vedere un po' il menu che cosa contiene abbiamo i giochi che adesso apro vi faccio vedere un po' come funzionano vediamo questo gioco a penguin scaricabile gratuitamente dal marketplace abbassiamo il volume e una GPU grafica assolutamente promossa non abbiamo particolari problemi si tratta di un adreno un adreno 205 che permette di far girare senza problemi titoli di giochi che troviamo nel marketplace htchub htcwatch i programmi inseriti da htc e poi troviamo il programma office che ci permette di aprire i nostri formati .doc appunto i file salvati da office sul device possiamo anche modificarli non abbiamo trovato problemi abbiamo installato l'applicazione gmail per consultare le nostre email apriamo un'email adesso vi faccio vedere questa email scarichiamo le immagini qui ecco qui quindi applicazione gmail che funziona anch'essa bene bene direi di farvi vedere adesso un po' l'applicazione fotocamera le impostazioni eccetera ecco scattiamo una foto un po' al tavolo ecco qui abbiamo la possibilità di consultare le fotografie direttamente effettuando uno slide impostazioni qui in basso possiamo regolare possiamo scattare regolare il flash profili le risoluzioni a 5 megapixel 2592 per 1944 possiamo bilanciare il bianco la luminosità eccetera eccetera impostiamo adesso la modalità video per farvi vedere le impostazioni abbiamo la risoluzione 720p con risoluzione 1280x720 quindi video in HD e come vi ho detto prima possiamo regolare anche una qualità minore vi ho detto che è presente con una fotocamera frontale che fa fotografie abbastanza buone quindi abbiamo anche la possibilità di avviare programmi come Skype per effettuare delle videochiamate dunque si tratta di un telefono proposto da HTC al prezzo di 399 euro un prezzo direi più che elevato e mi sento di consigliare questo telefono a chi si vuole avvicinare per la prima volta al mondo al mondo Windows Phone anche se il prezzo è elevato diciamo che quel prezzo si può trovare si possono trovare dei device Samsung a 150 euro come OmniaW che vi ho mostrato prima che comunque regalano un'esperienza più che positiva dunque per hardwarephone.com è tutto un saluto da Antonio Murra ciao un saluto Grazie.